Ben a tutti dati game e bentornati a un nuovo video, vi porto Fiora, dopo una settimana ancora non ci stanno se solo io quindi vi dovete arrangiare queste flex queue finchè non posso ricominciare con la serie Comunque l'ho giocata ieri streaming, però ho avuto gli fk eccetera Comunque proviamo Fiora col nuovo fervor che secondo me è molto meglio contro i tank tipo Perché avete il tempo di staccarlo e l'AD è buono per la passiva perché vi aumenta il true damage che fate in pratica E guarda Ciro che ti ho letto E poi abbiamo... è un po' più debole in early game perché è più difficile da staccare però comunque Fiora non ne risente molto Diciamo che tra il danno che prende true damage eccetera è più o meno uguale a prima Fiora, non c'è stile di problemi E' meglio contro i tank e un po' più debole contro gli squish che dovete barstare Però... sa cavamo E abbiamo un team carino, non so perché gli scivani non giocano col ghost e usano il flash sinceramente Boh Dato che comunque... ci hanno... c'è sta pure le piantine adesso per saltare i muri Però va bene E siamo contro... coso? Ma ok, ho preso l'mr scaling perché c'hanno 4 champion su 5 e fanno danno a p Tipo la nuova Valmortius no? Che è stata... che è stata nerfata per gli assassin però è meglio per Fiora Perché gli dà CD e gli dà quei 20 AD che non sono male Quando... quando si procca E contro il marte di cazzo non era infacile però gli hanno Menomale sì Poi dopo però si inizia a farmarsi campi e giungla Cioè avessi avuto l'ignite e la first blood Ti rianna con questa maniera giochi? Io con flash e ghost in generale pure io Eh mi sto abitando al ghost perché ho messo sempre l'ignite su tutti i midlaner Eh no però adesso devi usare il ghost per forza perché se il midlaner avversario c'hai il ghost e te carica e tu devi usare il flash e... Ma non scappi Non scappi E non c'hai comunque scappato Perché te lo usa pure l'avversario e il flash e tu sei morto cioè Esatto E in più è buono per... per la mobility di un sacco di cose Ma soprattutto se c'è non c'è il piromodianna che non c'è escape Usi il ghost anche per scappare Adesso... non nerferà nel cooldown del ghost penso perché... L'ho reso un po' troppo forte Adesso tra un po' mi dovrebbe arrivare lo zack in top proprio Questo ma... Ah hai capito Giro Così a caso Così a caso 52 ap livello 2 Non l'avevo visto Io ho paura del zack quindi non posso andare troppo avanti Fu un champion Allora qui ci siamo Ma hai capito? Lo sto abbastanza poccando però sto perdendo un po' di minion Vabbè... ci sono rimasto te merda ti giuro Vabbè... 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 La Q a melee range che knocka Gliela puoi parare E in più è un tank senza escape e quindi se lo all in... Sperate di chiudere la blackkriever È bello che è chiuso Posso permettermi di andare così avanti perché... Tanto lui suga Prima cosa da false assolutamente... La Fstial e Tiamat Tiamat prima di tutto perché... Lui può comunque depusciarvi E voi dovete pushare fast Ecco però... non così magari Prima di andare back... Lo voglio poccare un altro po' E prendere la Tiamat Eh se sta a far campi della giungla Sta a far campi della giungla e a questo non gli posso contestare nulla Continuiamo a poccare... Ecco che potete parare lo stun in questo modo Il knock della Q c'è... Top, 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 top Lo so l'ho visto, non c'ha il flash vero? No manco Ignite, però se gli è tornato l'Ignite Ok, buona così Adesso appena abbiamo la W di nuovo facciamo uno lean Bravo, via Dietro, dietro, dietro Così l'ho visto ma... Voglio prendere più tempo possibile Eh beh... Tanto non facevo in tempo a flashare qua Già partiva il tower hit Quindi non ho dato la kill a cose Ha perso un po' di tempo Poi non... Non fa il tempo a pushar una sottotore Quindi... Non devo nemmeno tippare penso Mi faccio anche questo Q... Ah no, l'ho deciso in bad no? Perché già l'ho chiusa la... La cosa di ward Mi faccio due pozze Mmm... Mi sa che devo tippare lo stesso Perché la wave pusha troppo fast Mi va tutta sottotore Quindi mi faccio MR? Sì, l'item e l'MR Qua non so perché sei partito quell'item Ciro Lo faccio spesso con tutti i mint Sì, ma se parti quell'item devi prendere la fiaschetta Eh no, è uno strade di gioco Va a mettere così Sono abituato Quasi sempre vincere Però questo mi ha rectato quindi Sì, ma se prendi quella partite fiaschetta Quella 150 gold Prende le tre pozze Cioè quello start è forte se c'è la fiaschetta Sennò è molto più debole rispetto a prima Comunque stiamo sopra di un po' ECS Quindi va bene Però... Non gli ho parato lo stone Mi ha detto Lo snare? Non lo stone Mi serve la steel Mi serve la ultimate Io uso la ulti per poccare È un main mortgäiser Kaiser. Allora non c'ho ancora i dati per Life Steal, prossimo giro ce l'ho, chiuso Life Steal non c'ha più nulla perché l'una cosa può fare è fare dei mini trade lui per Per tirarmi giù d'HP Lasciamo gli aglirare quella ward, anzi no, gli aglirare What? Non gliel'ho parato, strano e non gliel'ho parato Vado back Questa è la wave del cannone, avrebbe esso infatti quindi E ci vuole troppo tempo per pusharla, non ce la fa, mandarmela sottotore Un'altro item che si può fare volendo è l'ex-kyo-donar calling per dimezzargli le cure ma Dopo me la faccio probabilmente perché hanno zack Tu fatti il morello appena puoi, cioè adesso primo item proprio morello diretto C'hanno una marea di cure, c'hanno sia morde, maukai e cose Quindi forse ne farò pure l'ex-kyo-donar Adesso vedo Più l'altro è che vorrei chiedermi prima possibile la black cleaver per Distruggere proprio Questi due item servono assolutamente perché Se no non ci avete Non potete pushare fast, non potete Mettere pressure sulla lane E non ci avete wave clear Perché Fiora l'unico problema che c'ha è che non ha wave clear in early game Allora, guardate, guardate, guardate Il gioco contro Mordecai sarebbe veramente stressante, vi giuro In breve potremmo farci l'era al devolente Oh, sta bene morde, sta bene morde Sta bene morde top, bro Che baffanculo Madonna, sto cempio di merda Scusa il rosic Unluck De fa 100-0 senza item Eh vabbè Tiro a sistema melee range Deve fa un sacco di danni Ma comunque probabilmente Zack sta qui dentro Guardate come mi gioca avanti Ma ok, è proprio l'antisca Noi aspettiamo qui Facciamo perdere il più tempo possibile Eh, questo è bad, è molto bad Sì, ma si fanno pure il drago Che c'ha morde keiser Ma pure il drago Vedete sta Zack Sì, però si fanno comunque con morde keiser No, no, dicevo a quelli che seguivano il video Ah, ma se Perché gli avevo detto che stava qui, Zack Stava campato lì Adesso però penso sia andato vecco Perché ha capito che qua non c'è pane per i suoi detti Sta pushando veloce Quindi io pusho a mia volta per non farlo tippare Buono FMO guy Dovreste prendervi il drake Buono Questo è molto buono per noi Vedete col tiamat quanto pushate velocemente Mica, ci avreste messo il triplo del tempo E non esacero A pushare la wave Adesso ce li possiamo prendere Il coso, come si chiama Vorrei farmi le cose Però c'hanno Cosa che è un sacco fiddato Vorrei farmi la blackkriever tanto Ma Come so ragazzi Mi faccio l'extrink Mi chiedo subito da Valmortis Per avere il sustain E sta roba qui Perché Cioè ci serve C'hanno 3 AP 4 AP 4 che fanno 1 AP E in più c'è Mordekaiser Che è particolarmente big ora Non è troppo farmato in realtà Però Sta comunque 3-2 Comunque Mordekaiser E fa danni comunque Mordi Esatto Quindi tocca Armarsi Buono, non c'è sopra il zack Buono Ma sto per farmando un casino Allora, con Fiora dovete fare sto ragionamento Più AD avete E più siete forti agli 1 V1 E le resistenze tipo la GA vi servono No, no La top non serve Vieni, lascia bene Tanto Non ho niente da fare Eh, ma perdiamo tempo e basta Perché tanto Questo qua me disingaggio Va via Cioè Non penso nemmeno provi a 3-Dam Hai capito? Perché sto così sopra che Non penso se sbilanci E dai varlo non possiamo E dammi un consiglio Ma dammi il laner Io che dovrei fare E non ho proprio nulla da fare Ora come ora Bote Non lo so Non c'è idea in realtà Fai il blu in realtà E poi provi a ruota bot Sì Faccio un po' Di campi della giungla Quello che mi rimane da Shibana Perché adesso non c'hai Proprio nemmeno I campi nemici da fare Niente Zero Mordecai se li credo Cleara Adesso volevo fare l'elder L'el L'el Adesso arrivo L'el 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 E quello Tu cosa fai tu? Non si chiama elder Si chiama Cosa? Error Arrivo pure io Però prima devo pusha Sta wave fast Quindi lo vuoi tu questo? Eh sì E no Chi lo prende Scusa Il top laner lo prende Che c'è fai L'autoattacco potenziato? No lo prende il top laner Questo infatti Io sono main mid Ma Cioè Oppure il jungler Che scala con gli autoattacchi Ma in genere lo prende Lo prende il top laner Manca mordecazzo Qua anche se tipo Non combiniamo nulla Perché c'è mordecazzer appunto Eh ho visto ma se tipo Che facciamo Un 4 Un 4b3 Mencia Non gli ho parato il coso Se gli paravo lo stun Forse lo uccidevo Ti vengono da dietro Ti vengono da dietro coso Mordecazzer E E Zuck Visto Eh vai via Inizia subito ad andartene C'è il blu Bene ci facciamo ad ore dopo Perché no Boom Reset l'autoattacco Importantissimo Promissale Reset A sfacca Scarpe penso Ci faremo Quelle contro Contro il cc C'è mordecazzer appunto No non c'è mordecazzer Eh c'è c'è Ecco vedi Non c'è C'ho paura di qualcosa E gli procco il thunder O te lo curo Mi stai fai dando Quindi non c'è Zuck E poi vicino Mi stai dicendo Avete visto come non ci sono andato Perché sospettavo del Zuck Basta Cero Sei imbarazzante Zitto Hai perso Fine Non trovare scuse Pusha la wave E poi vieni top A wave clearare Che mi arrivano in 4 Tipo E mi serve una mano Occhio che stanno tutti qui O qua Eh stanno tutti Da ste parti Poca mano Ma le di vantaggio 2.900 gold Non c'è la torre Diventa brutto Diventa brutto Non ci sono Cioè 2.000 Non so ma questo Mi prende il flash intanto Buono Non ho flashato ragazzi Perché ci avrei messo Troppo tempo a cesarlo E probabilmente sarebbero Arrivate altre persone Quindi ho Deciso di non cesare E poi sono E qui Non so perché Sia qui Provo a salvarla Ma Che gli dico Vai 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 Sono bravo Bravo Outplay Eh no Si è tirata ma Cioè Ha fatto esplodere ma C'è pure l'indicatore Di dove vai a finire Se steppaglielo Ecco Ma non ho dovuto nemmeno Se steppare Questo 1950 Mi costa Puoi prendere il red Ma stai zitto Ovvio Mordecai di cosa Mordecaiser Se proprio a chiedarlo Adesso che c'ha Eri light Te punisce In modi indecenti Ma si è risettato pure Giro Basta Calmati Adesso va Se frega la farm E tu a mid E si va Te lo dico io E se la merita pure Sono tilted Se la merita pure Dobbiamo fare il drago bro Che dracca Lo sia Che schifo Buono Che schifo lo sia Vai guide la guide Che schifo Mi sforzo Ma guide non c'è il flash Tanto Io continuo a pushare Lo fate sto Sian Sono morti In cosi Ma il jungler Non c'è vita Non c'è vita Sti cazzi C'ha il tp Se voi ci andate Io ce l'ho Mi devo ricaricare Con lo Sian Non ho messo No tesi mid Chi ha preso Mokai No non ce l'ho Mokai Mordecaiser What Ah la buglia Quella stronza Che build eh Ma lasciala Quella stronza Perché non me lascia Ce l'hai vita Bugiata Ah ma non volevo dire Ah Volevi Volevi dire Ma cos'è che hai detto Allora Mi serve il tp Ma lontano Devo dire No non mi serve Il tp Se ce la vado a shottarlo Prima che arrivi Il zack Perché se no Bene Uno per uno Più il dreck È buonissimo E io non ho sprecato Il tp Forse le sale qualcuno Forse zack No ma è questo Prova a girarsi Soldamè 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 Bello zack Dai che ci vuoi provare Ammazzamme Dai che ci vuoi provare Io lo so che ci vuoi provare Dai Perché non c'è prova Perché non c'è prova Guarda quanto sono l'ho Guarda quanto sono l'ho Pezzo di merda Vieni qui Lo vedi quanto sono l'ho Allora in realtà Me dovrei fare le scarpe C'ho tanti item da chiudere Ragazzi però Me devo fare le scarpe Contro i gc Perché Lux Maokai Coso Più In più danno pure magic crisis Quindi è buono E Hanno slow In abbondanza Quindi Farò le scarpe E poi mi chiuderò subito La Allora se c'ho 1400 gold Per chiudermi subito la cosa L'hydra me la chiudo Se no Mi chiudo Mi inizio a fare La black cleaver Diretto Che mi fa più che comodo Dito Dato che Sì dito Dato che si stanno iniziando A buldare armor Anzi mi farò diretto La black cleaver Perché pure Mordekaiser Ci hanno Bastardi Comunque dobbiamo Shotare sto Mordekaiser Prima di shot Qualcuno di noi Sì sì lo so Che stanno tutti qui Tanto cosa Non c'è il flash Non c'è l'ha venito Non ce l'ho fatta A porca cosa Porco Mordekaiser 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 qui Mordekaiser Mordekaiser Orkodinji Lo scupe magic resist No 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 La Q La Q Io so già che mi killai Rimbalzo Questa qua Vabbè Andata piuttosto bene In realtà Era ammazzata Non ce l'ha capito Andata bene Guarda Questa cosa che ti ho detto Della palla Aspetta Ecco Qui Però Lì si vede Allora ci ho vado Lì in bot Tipo qua guarda 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 non la vedi La gente avanza Tac Ah ci sta Qua ragazzi Non ho Non ho Avrei dovuto Flashare Per truccare La La cosa Per riscambinazione Ho dovuto Prendere Inizio Ma non fai gli danni Ma non fai gli danni A Mukai Se non becchi Il true damage Quindi Me devo Assolutamente Fare Sta black cleaver Allora Dove faccio Una void staff Come terzo Che c'è La vista Non te la dovevi chiudere In realtà Però vabbè Solo lì Devendo la magic resist Però Volendo Sì Una void staff Debo i fa Ci hanno Tante MR Loro Ah Vi avrei fatto Pure Sì Sì Stanno a fa E al posto Della cosa Te saresti dovuto Fare Rilea Mi arriva A pre noi Perché Non gli ho Broccato L'ult Pensavo Di aver Premuto R Sinceramente Eh Non dovremmo Sta tutti Qui Quando c'è Il baron Up In realtà Andate via Andate via Ci penso Di appusciare Cioè Io dovrei Stata solo Non so Vabbè Zack E qui Mordecazer Pichiamo tutto Comunque Mi sforzo No flash Sì Il problema È che Mordecazer Se fa qualcosa Adesso Beh In realtà Non pusha Tanto Veloce 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 Mi c'è Un volo Il game Bro Ops No Io vado Top E qui Che Questa Iniziamo La black Crever Ce l'abbiamo Subito In istante Quindi ce la facciamo Oh c'è che Non mi lo Ti può Fare No Non può No Non ti rischiamo Però non vado più avanti perché Cioè il drago tra 40 secondi C'è la speed Della 08 Quindi non lo becco Questi 08 Mi fanno comodo perché A me Mi accumulano la wave Tipo Vedete che si accumula Allora E quindi Voi state pronti a farvi il drake Io c'ho il TP Comunque a morde me lo faccio Non vivono tranquillo C'ho la Valmortius E c'ho la ulti app Più un sacco di sustain Venite venite Eh dammi una ward però Eh ragazzi Se non c'ho Non c'ho letteralmente una ward per tippare Eh ragà Eh non so Non c'ho l'item delle ward Non c'ho la syston Cioè qua Ragà Ma è bad che Non sapevo che non avessero ward Ma cioè Eh io le do per scontate Compro io le ward normale Bendo il blood drink Se fanno il Baron Ah lo so Io che posso contestare il Baron Ok forse si posso contestarlo in realtà Non c'hanno anche il drago di Mordekaiser Eh Ci provo Cioè se c'è a moka è qui È l'unica cosa a provare Vai Deghe muoio come un pezzente Non ci flasho nemmeno Arrivato troppo tardi Se lo sono fatto instant Eh ma è il jungle che va di confiora top Non senso Non senso S'è fatta la cosa Il problema è che non si è fatto l'item da tank Quello si Non lo so Dovete lasciarmi scritta Eh però qua Non ce l'avete voi Cioè in realtà Il tuo clear ce l'avete Perché Kate ha sbagliato Buld Cioè Ma che cazzo Sei buildato Il coso Anziché il runan Kate Buld Runan No Si deve fare il runan Festitem Tipo Perché scala con la passiva La sui star Però questo non fa danni Eh vabbè Ma il runan È troppo importante Cioè non si può Come cazzo Dove venne in mente Le fatte quell'item Su Kate Vuoi Kate Se gioca per due motivi Proviamo a coadare Mordecaise Ma non penso Che ci ammazziamo Adesso Ok questo è andato A top Vado Lasciatemi da solo Vai questo va back Tanto ce la fa Lasciatemi da solo Top Devo splittare È l'unica cosa Che posso fare Guarda 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 Oh E dai Già arrivo Posso stare Lo zzzerotto Ok togliete lì voi quelli E vado sui prossimi Ok C'ho la black cleaver Nice Poi mi manca Forse la blood Una giavoland Cioè io voglio Voglio splittare Perché tanto Se gruppo Se è inutile Cioè Sono molto meno Inutile Di quanto Splittare Let me Split Non c'abbiamo Un tank Stando ancora T Eh questa C'ha un po' Deve La spend Adesso In realtà Vediamo Come l'invest Tu non devi Stare lì Devi stare Wave clear In mid Però Ah no Fuori posizione Io Ecco Si è fatto Lì Damm L'ail capuccio E non c'ho Assolutamente Word Dove ti pare Vabbè Voi Andate a wave clear In mid Io continuo Aspettando Appena non c'hanno Mokai Quindi mi prendono Inimitor Se Se Insisto Se Se Insisto No In mid Ok Non fai Date Mi hanno preso Sotto la torre Con Con Lux Mi sforzo Beh Dovrebbero riuscire a dipendere Vediamo se riesco a prendermi Sti inibitor Mi è stato Tutto a crescent Bad Sfacca Ma cosa Non c'è l'ultimo L'inibitore Non lo paro nemmeno Ragazzi Perché è uno spreco Parare Quella cosa Come li faccio No Vabbè Ho preso Inimitor Senza morte Forse me li facevo Entrambi E abbiamo preso Ancora Torre in meta Mi faccio La blood In realtà Perché voglio Fare Più danno Possibile Shivana Si sta facendo No Non serve Perché Fiore Il danno Principale Cioè io Conto sul True damage Ok E più di ciò E più True damage Faccio E Il last whisper Non Cioè Non mi serve C'ho già Black cleaver Che riduce L'armor Già Faccio Faccio Il 12% La max health Tipo Ecco qua Kate Che non ha fatto La La trappola Quando sono Stunnato Cioè fa Sprecare un po' Di roba Prima di prenderla E ma Sono Fa più danni Di Kedrick Eh vabbè Full AP Fateve il Drake Tanto la top È in push Comunque Sì ho splitto Vot E poi andate In mid Tu la edi Orianna La usi con Alte Oppure la usi Col tasto In che senso Cioè io Mi sto abituando A usare le skill Sui amici Con Alte No Eh pur io Però con Orianna Non ci riesco Eh dipende Il lane in phase Tanto non ti fa Tante differenze In team Infatti invece Devi fare Alte Cioè Più che altro Perché Se no Rischi Sbagliate Quando state Tutti appiccicati Però il lane Non c'è Sti problemi Oh io Ricollo Va bene Allora andate via Anche Lux Sta andando Full AP Ma almeno C'è una Sexton Ok adesso Ragazzi Io qua Non devo morire Devo aspettare Che loro Mettano pressure In mid Go Assform Se cauto Miss fortune L'è buono Pure Però aspettiamo Che loro Mettano pressure Vedo che stanno Tutti lì E ammazzo Miss fortune Easy As that Ah bravo Dobbio Cidofonata Eh no Già avevo iniziato A ucciderla Quando l'ho detto Continua a push A bot Allora Loro stanno lì Quindi adesso Loro devono mandare Qualcuno Per difendere qui E È un Una persona In meno Comunque Eh però Non ve lo dovete Fa uccidere Così ragazzi Cioè Dovete Prendere tempo Non potete Cioè Dovevate aspettare Solo che io Mettessi un po' De pressure Guardate quanto True damage Gli faccio Ci sono fatti Beccata Non ho Skyshot Deluxe Sono morti tutti Ci sono pure io Ci sono pure io Non c'è l'ultimo Ma io sono morto Non sei morto Continuo Non ho peccato Il true damage Porco dinci Se lo peccavo Era morto C'è qualcuno qui forse C'ho il red Per curarmi Mamma mia Che buono Abbi So Madò Mi rimango Voi andate In top Sì 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 C'ho il red Per curarmi Eh ma è Nel senso Ci siamo capiti Me la potevo Gioco con l'elisile Perché questo È l'ultimo Fight Qui dovete stare Attenti Vediamo se riesco a caudare qualcuno Qua già miss fort Mi vengono tutti E una è morta Bravo Mi sforzo Non riesco a ammazzarla Troppo veloce L'ho sprecato il flash Prima Zacca qui Vado a mettere pressure bot E non fai date Non fatevi ingaggiare Per favore Devo Devo pusha qui Dobbiamo Punta sul fatto Certo che posso pusha Cioè Se loro mandano una persona qui Non dovete morire però Dovete semplicemente Starr lì E distrarli un pochino Sì aspetta che ci faremo A me che mi distrae Secondo No sei tu e devi distrarre Non tu amare Prendolo 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 Ok Prendiamo sta torre Buono Prettato Questo va bene Faccio l'ultimo Ah questo Lo potevo parare In realtà Stai da solo bro Stai un po' da solo Sì ma va bene Abbiamo preso i inimiter E poi prendete pure Quello lì penso Non mica l'ho visto I fantasmini Potevo incare Ma avete preso inibitorla Sì aspetta il secondo Prendetelo che devo andare a becchio Lo prendiamo Marta Minchia dai Tutti li prendi Manco cicciolina Li prendeva così tanto bene Allora Ci prendiamo la nostra blood E ci facciamo Altra magic resist Ci facciamo la stile Magia Eh mi sa che non lo prendiamo Comunque l'inibitore Ma è da prendiamo pure questo Invece Lo rischia così Questo lo prende Lo prendo instant Vuoglio prenderlo Non mi interessa Ah Vabbè Io questo lo voglio prendere Un tp per un inimiter Ci sta Tanto loro Perché loro non possono Far barone nulla Perché è tutto ciò Quindi adesso Abbiamo due sidlane Che pushano E loro Se reggiamo il primo push In mid Non fanno nulla Adesso però Doveste wave clearare in mid E non farvi ingaggiare Se no Metti la palla qui E aspetta Se arrivi la wave Se sta avvicinando Vai ulti Esatto Visto? Easy Non so Non so Adesso Quello coso lo potreste ammazzare Volendo Forse Non so se ci arrivate Perché c'ha Eh Sei il lato Prendete l'inimitor Questo qua Ti è sacrificato Per la patria Un vero eroe Allora Top Adesso pusha La bot pure pusha Prendiamo l'inimitor E forse Riusciamo a chiudere il game In realtà Eh ma Mordecazzo Stiamo un attimo Stattenti Dobbiamo fare pure il drake 20 secondi Eh ma Non so Se possiamo chiudere il drake Sì Forse Meglio fare il drake Ma più che altro Perché non facciamo In tempo Le lane stanno ancora Esatto Sono ancora cerbe Diciamo Devono maturare Adesso aspetto Tanto Miss Fortune Dovrà per forza Venire a pushare qua Da qualche parte Perché è l'unica Loro occasione De pushare Quindi io aspetto Che mi avvicini qualcuno Qui E lo ammazzo Allora Aspettiamo tranquillamente Andiamo coltri Eccolo Eccolo Easy as that Potrebbe avermi visto Quindi non ci vado Aspettami Aspettami Stai troppo indietro Guarda tu sto io Sì sì No no Era per cautare qualcuno Se capitava l'occasione Non era Per fare qualcosa Non c'è l'ultimo Adesso tutte le wave Pushano Dobbiamo solo aspettare Che arrivino i super minion Easy Adesso ci hanno Due super minion Che pushano wave Aspettare No ecco Questa è la cosa più sbagliata Che si può fare E abbiamo Mandato a puttane Tutte le wave Tu pure Ciro non dovevi segui Abbiamo Dovevamo solo aspettare Che arrivassero Le cose Adesso Possiamo provare A far No che cazzo è Ho provato Sono un coglione We had Al codinci Mi fa incazzare Ste cose Mi fa tiltà We Had Just to wait Waves To push Tu non dovevi Il talli Ciro Hai sbagliato Dovevi aspettare È avultato Abbiamo perso Loro sanno Adesso Non c'aveva La ulti Shanna Non c'aveva La ulti Tuo Cazzo Io qua Ho fatto Un flash Di merda Ho shottato Mordekaiser Ma c'era Cosa Che mi minava Da dietro Yes Guys Just Wait Questa Questa Ancora Non c'è Runa Nesta Catrine Non c'aveva Porco di Incesso L'inivitor Gli respawn Noi non c'abbiamo tempo Ci abbiamo un minuto al bar Dobbiamo farci il bar E poi provo a push Sperando L'inivitor Forse abbiamo Due wave Che avanzano Cristo santo Io ho sprecato il flash Cristo Guarda quante wave abbiamo Cioè Questa era tutte Era praticamente vinta la partita Tu quando è così Stai indietro Nemmeno fagli vedere che stai lì Adesso Gli respawno un invitor Ci ho provato E ci abbiamo No dove Non c'aveva senso Dovevate aspettare le wave Adesso gli respawno Gli inhibitor Chiudiamo questo Chiudiamo questo Eh provate a caudarlo Ma c'ha lo zezzerotto Quindi va più veloce Questa qua Vediamo se riusciamo a ammazzarlo Morto questo Chiudiamo Però ce la siamo Stata orribile come partita Sinceramente Però mi sono incazzato Perché cioè Abbiamo rischiato di perdere una partita Facile Non perde L'abbiamo ritardata Comunque Mi fa incazzare ragazzi Perché io Io devo contragere Il mio mindset Assolutamente Perché Non mi posso Cioè ho fatto quel flash a caso Perché ero tiltato E non posso farmi tiltare così Da Un errore che fanno i miei compagni Assolutamente Concordo Concordo pure io che ho ultato così a random Però sostanzialmente Raga quando uno ingaggia così tanto E così male Tu sei un Orianna Cioè la devi seguire Perché non c'è un altro Il problema è che siamo umani ragazzi Quindi Queste emozioni umane Dovremmo correggerle Qui Mi hanno fatto un bel game Comunque Cioè l'abbiamo L'ho carriata io in pratica Con lo speed push eccetera Perché La bottene stava indietrissima La jungla stava indietrissima Ma dei danni come stiamo? Eh i danni abbiamo fatti io e te in pratica Ho cercato di proteggere Ho cercato di Ammazzare sempre i misfortuni Comunque Per div Caitlyn ragazzi Ha missato pure la build Cioè Assolutamente runan First item su Caitlyn Perché Con la passiva Fa più headshot Ha fatto Proprio Lo schifo Shyvana Ha fatto Engage senza senza Eccetera Se non cautavo Tutte quelle persone Perché Miss Fortune L'ho ammazzata tipo Tre volte da solo E da lì abbiamo preso Inibitor eccetera Non facevamo un cazzo Sto game Perché i fight Stavano sopra loro Con Miss Fortune Miss Fortune Lux E sto coso E mordecazer Mokai anche se sta indietro Tanca lo stesso Quindi bene o male E' utile lo stesso Non è come una Riven Che va indietro Comunque ragazzi Spero il video vi sia piaciuto Se vi è piaciuto Asciate like Iscrivetevi C'è Twitch e Facebook Non so C'è pure la mia descrizione C'è pure Mettiamo il canale Twitch E bello a tutti Ciao ragazzi